Presidente, scherzando, diceva se non arriva questa candidatura cancella la Lessigna dalla carta geografica. Chiaramente un'ironia per dire che è una candidatura fondamentale per la Regione Veneto. L'ho detto perché è impossibile cancellare un territorio dalla carta geografica e quindi la prova provata è che devono darci il patrimonio dell'umanità che è esattamente quello che la Lessigna si merita, perché questo cambia la vita della Lessigna. Senta, ha mostrato un pesce particolare, la pesciara è un unicum a livello internazionale, va valorizzata anche attraverso questa candidatura? Decisamente sì, mediamente i giacimenti di fossili nel mondo hanno 25-30 specie, la pesciara di Bolcan è a circa 290, peraltro stiamo parlando di fossili di palme, di squali, di razze, di meduse, di aragoste, nella Lessigna, la montagna diciamo dei veronesi, questo dà una dimostrazione di quello che è il valore della pesciara, di Bolca, di Ronca, di San Giovanni di Larione, del Monte Postale, insomma di tutto, di Monte Postale e di tutto quello che conosciamo. Conclusione, ha voluto vicino a sé uno, un rappresentante della famiglia Cerato, a testimonianza del grande impegno di questa famiglia per tutto ciò che abbiamo sotto gli occhi. Cerato è la storia di Bolca e della pesciara, sono sette generazioni di cavatori, di persone che comunque scavano, trovano fossili, il pesce angelo che è il simbolo della pesciara appunto è stato ritrovato dal nonno dell'attuale di Cerato e quindi stiamo parlando veramente di una tradizione di famiglia.